Nella giornata di ieri si è sviluppato un incendio nei pressi della zona della Torretta grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale l'incendio è stato subito circoscritto e successivamente è spento grazie all'ausilio di un elicottero. Data la vicinanza alle abitazioni e ai centri commerciali comunque anche la struttura comunale si è attivata e monitorato l'andamento dell'incendio per capirne le evoluzioni non è stato necessario prendere iniziative aggiuntive. In questo periodo raccomandiamo a tutti le buone pratiche per la prevenzione degli incendi soprattutto ai proprietari dei terreni di manutenerli quindi tagliare l'erba per evitare che in caso di incendio le fiamme si possano propagare massima attenzione nell'accensione dei fuochi in questo periodo sappiamo che è vietato quindi raccomandiamo a tutti di non accendere fuochi anche se si pensa di poterli controllare perché poi i pericoli sono sempre in agguato non usare mezzi che possono provocare delle scintille oppure gettare mozziconi di sigaretta e soprattutto nel caso in cui dovesse verificarsi un incendio la prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi. Grazie. 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 Grazie.